aggiornamento di calcio mercato inter davvero importantissimo perché subito dopo il sorteggio dei gironi di Champions che secondo me può aver influito e adesso vi spiego questo dettaglio importante sono arrivate delle dichiarazioni di Beppe Marotta amministratore delegato dell'Inter che sostanzialmente ci preannuncia una buona possibilità di assistere ad un nuovo colpo probabilmente a centrocampo nelle ultimissime ore di questo mercato in queste ultime ventiquattro ore che stanno partendo proprio nel momento che in cui sto registrando quindi ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi subito un mi piace e iscrizione al canale mi raccomando se non l'avete ancora fatto così non vi perdete i nostri appuntamenti in diretta speciali per l'ultimo giorno di mercato vi aspettiamo in diretta qui con noi e partiamo proprio dalle dichiarazioni di Beppe Marotta che sono veramente molto importanti un Marotta che ha parlato prima a Mediaset e poi a Sky diciamo che già nelle prime dichiarazioni qualcosa aveva fatto intuire Marotta nelle seconde quelle a Sky con anche un sorrisino eh è andato un pochino oltre per cui mi soffermo soprattutto su queste dal nostro sito passioni inter punto com le prendo ringrazio la nostra redazione Marotta dice fino a questo momento mancano ancora ventiquattro ore è stato un calciomercato molto strano e molto anomalo e ok eh i nostri dirigenti hanno fatto un buon lavoro lavorando insieme all'allenatore e puntellando una squadra che ha rafforzato anche alcuni valori sottolineo anche che resistere a qualche lusinga arrivata da qualche altro club è un altro segnale importante Marotta ancora una volta sottolinea come aveva già fatto qualche giorno fa che sono arrivate delle proposte per dei giocatori e sono state respinte sul centro campo poi arriva la domanda specifica ed è quella che ci interessa maggiormente in questo momento dicevo prima che noi siamo molto contenti dice Marotta della rosa a disposizione di Inzaghi abbiamo l'obbligo e il dovere di cogliere le opportunità anche in base alle nostre disponibilità mancano ventiquattro ore non è facile trovare giocatori che rappresentino opportunità prima mi sono confrontato con ausilio e abbiamo parlato di cose concrete poi qui con un sorriso dice non voglio né illudere né disilludere nessuno sia a livello di tifosi che di giocatori però penso che qualcosa riusciremo a fare sono molto ottimista non dico la ciliegina sulla torta però puntellare attenzione con un giocatore con determinate caratteristiche si parla di determinate caratteristiche l'obiettivo nostro è quello se possibile di completare una rosa che di per sé da già ampie garanzie se arriverà un giocatore bene altrimenti siamo contenti questo dice Marotta quindi si proverà a fare un colpo se si riesce bene e se si riesce sarà un colpo con determinate caratteristiche se non si riesce stiamo bene così queste sono le parole di Marotta alcune considerazioni su queste dichiarazioni allora il primo punto dicevo prima perché la champions può aver influito questo è un po il sorteggio champions intendo questa è un po una mia ricostruzione fantasiosa ma fino ad un certo punto nel momento in cui un eventuale nuovo acquisto ti dovrebbe costare che so faccio un esempio x un milione di euro per questo sto molto facciamo 5 5 milioni di euro ti dovrebbe costare questo eventuale nuovo acquisto dell'ultima ora farlo con un girone di champions proibitivo e quindi con diciamo delle chance di andare agli ottavi di finale di champions e avere quindi degli incassi importanti delle possibilità minori diciamo già lo prendi dici quei 5 milioni magari ecco non li investo necessariamente se le possibilità di rientrare dell'investimento sono complesse se però il girone come è accaduto è alla portata e puoi aggredirlo facendo una rosa buona e diciamo confidando nella possibilità di passare il turno e quindi ritornare anche immediatamente dell'investimento magari quell'investimento lì lo faccio più ben volentieri sono più sono più ben disposto ecco a fare questo tipo di investimento anche nell'ottica di avere maggiori chance di aumentare ulteriormente le chance di superare il turno di champions in un'ottica in cui bisogna gestire il mercato in maniera conservativa dal punto di vista dei conti è un fattore da tenere sotto osservazione poi l'altro tema è relativo al centrocampo qui su passione inter già due giorni fa ma anzi è da diverso tempo che vi dicevamo attenzione perché a centrocampo le cose probabilmente non sono finite due giorni fa nel club di passione inter vi ho anticipato delle notizie che poi sono emerse ieri mattina vi avevo detto qualcosa a centrocampo può ancora succedere oggi marotta di fatto lo conferma e quello che ci risulta e quello che in parte quindi marotta fa capire che diciamo in condivisione con l'allenatore con l'idea anche che l'allenatore ha della rosa dell'inter in comune accordo le parti stanno ragionando sulla possibilità di aggiungere un settimo centrocampista alla rosa dell'inter questo secondo me per due motivi potrebbe essere uno per la possibilità appunto di aggiungere caratteristiche differenti ad un reparto che ad oggi manca in alcuni punti l'altro possibile motivo come dicevo è anche quello del fatto che molti non hanno molta fiducia nell'attacco tra Arnautovic e Sanchez che magari potrebbero non darti garanzie dal punto di vista fisico e allora all'occorrenza in emergenza avendo sette centrocampisti ma tra l'altro il discorso fisico vale un po' anche per Sensi nel caso in cui dovesse rimanere avendo sette centrocampisti hai maggiore copertura su Sensi e hai anche una copertura eventualmente con Mkhitaryan che ti va ad occupare uno dei due slot lì davanti con gli attaccanti cosa che gli abbiamo visto fare per uno spezzone anche l'altra sera con il Monza Inzaghi non lo ha testato tantissimo questa cosa e il cambio modulo non so se lo farà però è un'ipotesi detto questo sui sette centrocampisti attenzione anche a questo fattore che vi ho sempre detto e che vi ribadisco l'inter oggi sette centrocampisti li ha vi faccio vedere la grafica dal nostro dal nostro sito per sette centrocampisti già in rosa si intende Mkhitaryan Sensi c'è la noglasdani barella frattesi e Agumet il giovane Agumet che fa parte ancora della rosa nell'azzurra in questo senso bisogna partire dalle uscite inevitabilmente perché già qui la lista champions è piena già qui con sette centrocampisti l'inter va verso il taglio di un elemento dalla lista champions di questa stagione per questo motivo si sta cercando di piazzare Agumet io sapevo che oggi sarebbe arrivato l'agente di Agumet in Italia non ne ho avuto ancora conferma visto che siamo in diretta da diverse ore e cercheremo ulteriori conferme per cercare di sbloccare questa situazione quindi Agumet è il primo indiziato ad andar via su Stefano Sensi qualcosa di aperto rimane sempre finché non verrà smentito l'addio finché non verrà confermato al cento per cento la sua permanenza qualcosa di aperto sul possibile addio di Sensi rimane su Aslani ho letto varie ricostruzioni c'è chi dice che l'inter abbia deciso di mandarlo in prestito e quindi lo sta spingendo in uscita c'è chi dice che Inzaghi non lo vede lo vuole mandare in prestito c'è chi dice che il giocatore invece avrebbe richiesto di andare via e di andare in prestito per quello che risulta a noi e che emerge in questo momento la posizione in realtà è più al centro un pochino più sfumata un pochino più a metà strada nel senso che le parti di comune accordo stanno valutando per il bene di tutti la possibilità di andare in prestito se questo non avviene sono comunque tutti contenti se si va in prestito Aslani con un altro profilo che entra il discorso cambia e si valuta un'opportunità per far continuare a crescere Aslani in un contesto dove può avere più spazio e nel frattempo garantire ad Inzaghi un giocatore che ritiene più pronto per il proprio centrocampo questa è la considerazione attuale poi su Aslani potremo fare un altro contenuto a parte potremmo parlarne a parte se dovesse partire perché Inzaghi non lo reputa pronto io do fiducia all'allenatore che avendolo visto tutti i giorni avrà fatto le sue adeguate valutazioni per me ci potrebbe stare nell'inter di oggi da vice c'era Nogulo e spero possa avere maggiore spazio però ecco io ne so sicuramente meno di Inzaghi che li vede tutti i giorni poi accanto a questo si apre poi il capitolo delle entrate chi può essere l'ultimo colpo dell'inter in questo mercato estivo allora in queste ultime 24 ore diciamo comincerei a scartare tutte quelle ipotesi un po più complesse che vanno ai Kiergaard del Salisburgo Gurnard Duat di cui si è parlato ipotesi ho letto di scambio con Amrabat con la Fiorentina è vero che Amrabat è in rottura con la Fiorentina ma visti i rapporti che ci sono tra Inter e Fiorentina la vedo un pochino difficile così come quando si era parlato per Barak della Fiorentina lo stesso il discorso è sempre un po' quello i nomi più credibili più caldi in questo momento sono due uno è quello di Maxime Lopez l'altro è quello di Ndombele Ndombele che vi avevo anticipato due giorni fa come detto nel club di Passione Inter perché Ndombele è un profilo che ci potrebbe stare perché per caratteristiche ti aggiunge quella fisicità un giocatore di caratura internazionale che l'Inter ha già seguito più e più volte nel recente passato e si può trasferire a delle condizioni molto vantaggiose ha rifiutato il Genoa proprio perché dietro c'è anche questa possibilità che si potrebbe aprire con con l'Inter il mio grande dubbio su Ndombele è che dal punto di vista fisico comunque un altro giocatore che non ti dà garanzie perché negli ultimi negli ultimi anni ha avuto problemi Maxime Lopez da quello che mi risulta è un giocatore che invece diciamo come idea nasce di più da parte della gente da parte anche di una sua volontà di cambiare squadra piuttosto che dall'Inter che è andata a cercare questo tipo di profilo un tipo di profilo che per me Davice Brozovic avrebbe avuto molto senso Davice Cerenoglu quindi sarebbe un ricambio di spessore ma che forse nel sistema di gioco di Simone Inzaghi avrebbe anche più senso diciamo come doppio playmaker quindi alle spalle di Mkhitaryan in sostituzione di Mkhitaryan nel nel modo di giocare di Simone Inzaghi per cui potrebbe avere vari sensi diciamo che però mi sembra un'ipotesi che ancora non sta decollando per quello che che ne so io quindi soprattutto quando Marotta parla di determinate caratteristiche se io penso alle determinate caratteristiche che servono all'Inter non mi viene in mente Maxime Lopez per questo motivo mi sembra un dombele il profilo più logico pensando a quello che si sta vocifrando in questo momento o in alternativa ho letto qualcuno del sogno Verratti di nomi di grande calibro in alternativa secondo me potrebbe esserci un nome X che ancora non è uscito ma che risponde a delle caratteristiche più fisiche più da incontrista più anche mediano di rottura volendo o comunque più grosso fisicamente che ti aggiunge più interdizione questa è un po la mia idea ascoltando un Marotta che parla appunto di determinate caratteristiche questo è il punto della situazione quindi allo stato attuale delle cose vi ho aggiunto sopra ragazzi delle considerazioni personali vari scenari tanti argomenti più quello che diciamo sono le notizie che ci risultano e come vedete in questo mercato abbiamo anticipato varie cose che poi si sono verificate ieri avevo parlato anche delle complicazioni su su Taremi al Milan che poi sono uscite ed emerse nella serata Gravenberg purtroppo non credo mi state scrivendo in chat Gravenberg sarebbe il colpo perfetto probabilmente ma credo che sia davvero ormai vicinissimo al Liverpool quindi vedo molto difficile questa cosa fatemi sapere che cosa ne pensate voi quale ritenete possa essere il colpo giusto per completare il reparto anche tra qualche nome che magari non è ancora uscito aspetto i vostri commenti qui sotto e vi ricordo di iscrivervi al canale di fare un salto anche su passione inter punto club per sostenere il nostro progetto se il nostro progetto vi piace se volete entrare a far parte del nostro della nostra community speciale mi raccomando vi aspetto su passione inter punto